buongiorno come vedete oggi in capraia con una giornata così che il lavoro che c'è guardate in rada che lavoro di barche il porto è pieno 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 comunque si prevede che ne arriva ancora le barche una giornata splendida o sì ora vi faccio vedere i pescatori che fanno la gara di pesca al totano guardate il lavoro c'è la fila assegnarsi all'iscrizione però se avessi visto la trecena mezz'ora fa c'era in mondo ancora il porto non è che ci sia tanta gente comunque è un arrivo barche bell'isola ragazzi mi fa vedere l'isola però anche me tac bello comunque ragazzi ve lo dio si sta d'incanto per la giornata cinque ore di navigazione e siamo arrivati qui in il posto più bello di mediterraneo arrivo del trecchetto a mezz'ora via a playa per l'assai la petto a casa della guerra Grazie a tutti. Arrivo del traghetto. 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 Ma chi se lo immagina? Un'isola piccola così. Guardate qua. C'è ancora gente che stanno facendo il bagno. Se ce la fa un grande ire... A Capraia, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. Si comincia a vedere un po' di folla qui alla Sagra di Tota. Ogni tanto c'è una bella gioventù. Ah no, allora si viene nuovo io. Vi è pieno di gente. Questa è la mia guarda. Mi chiamavo un bacio. Questa una vorrà un bacio. Questa una vorrà un bacio. ciao ciao Capretta e te penserai ma tutte quelle